Un martire dei nostri giorni, un uomo buono e mite, assassinato come se fosse un criminale, un veato al quale possiamo rivolgerci nella preghiera per chiedere la fratellanza e la pace e anche il coraggio di dire la verità. Uccidere in nome di Dio è satanico. Sono le parole che Papa Francesco ha dedicato a padre Jacques Amel, il sacerdote francese barbaramente ucciso lo scorso 26 luglio, mentre celebrava la missa nella sua parrocchia della Diocesi di Rouen, Nella cappella della Casa Santa Marta, durante la consueta celebrazione mattutina, il pontefice si è rivolto al gruppo di pellegrini venuto dalla Normandia, esprimendo vicinanza ai familiari, alla comunità intera e rimarcando che Gesù è il primo martire, un mistero da cui si dipana tutta la storia del martirio cristiano, dai primi secoli fino a oggi. Questa storia si ripete fino a oggi e oggi nella Chiesa ci sono più martiri cristiani dei tempi primi. Oggi ci sono cristiani assassinati, torturati, carcerati, sgozzati perché non rinegano Gesù Cristo. In questa storia arriviamo al nostro Persac. Lui fa parte di questa catena di martiri. I cristiani che oggi soffrono, sia nel carcere o con la morte o con le torture, per non rinegare Gesù Cristo, fanno vedere proprio la crudeltà di questa persecuzione. E questa crudeltà che chiede l'apostasia, diciamo la parola, è satanica. E quanto piacerebbe che tutte le confessioni religiose dicessero uccidere in nome di Dio è satanico.